Mi spiace per chi dovrà leggere tutta questa trafila di parole, ma avete lasciato a vostro rischio e pericolo un posto per scrivere. A parer mio, questi questionari sono alquanto inutili. Illudono i ragazzi che qualcosa cambierà quando non sarà affatto così. Ringrazio per aver messo questo questionario, perché per me è stato come se fosse un'altra persona e ho potuto riflettere su ciò che posso fare o evitare. Siamo solo numeri. Purtroppo questa frase è verissima. Siamo solo numeri, voti e siamo trattati come tali. Nessuno si interessa di noi al di là del voto. I miei genitori non sanno nemmeno cosa significa essere un adolescente. Aggiungete qualcosa sugli hobby, sulle passioni di noi ragazzi. Capita di sentirsi soli anche in mezzo a tante persone e di riporre le proprie speranze nel futuro. È da tutta la vita che lo faccio, ma ancora non ho incontrato quel futuro pieno di vere amicizie che ho sempre desiderato. Mi capita di sentirmi un pesce fuor d'acqua e non so che cosa fare. Insegnate di più la bellezza della vita, perché vedo troppi giovani che se la dimenticano. Come dite voi, adulti, l'adolescenza comprende anche la ribellione alle regole. In generale vorrei che gli impianti sportivi fossero potenziati perché lo sport salva le persone facendo trovare a loro la pace interiore e i sorrisi tutti i giorni. Lo sport fa nascere inoltre i veri valori di gruppo e di solidarietà tra i giovani. Il sistema scolastico è tutto da migliorare. Sinceramente credo che i risultati di questi questionari siano una grandissima scritta aiuto e spero che ci sia qualcuno che se ne accorga e decida di fare qualcosa, per davvero. Grazie per prendervi cura di noi.